ciao a tutti sapete che cos'è questa sapete che cos'è cosa sarà mai cosa sarà mai intanto vi dico che è un aggeggio molto interessante per l'economia domestica in camper che si collega con una porta usb che ha un costo l'ho trovato su wish a un po più di 20 euro che l'ho già usato una volta e funziona devo dire bene assolutamente in maniera più che onesta che cosa sarà mai allora intanto questo è un piccolo video dove vi do un'anticipazione lei è una lavatrice a ultrasuoni l'ho posizionata dentro questa bacinella con dell'acqua ha un programma di lavaggio che è di 40 minuti che funziona collegati a questa porta usb ovviamente in base al come dire al grado di sporco magari potete anche toglierla prima io però l'ho fatta andare tutta 40 minuti con della biancheria intima ovvio che non era la tuta con cui vai fare il lavoro in officina ecco ma la classica biancheria intima che invece di portarla all'interno di una lavanderia a gettoni io di solito la lavamano qui in questo caso invece mutandine calze magliette canottiere dentro la bacinella e le faccio andare così ragazzi funziona però detto così a voce vi faccio solo una piccola perla ve la faccio nuovo rivedere e lei state lì perché domani vi realizzerò proprio il video con tutta una serie di funzionamenti faremo passo per passo guardate pesa niente si può utilizzare si può utilizzare appesa un orecchio come un pendente se qualcuno ha bisogno di un paio di orecchini perché è veramente comodo leggera e c'ha due ventosine dietro perché così le puoi posizionare di solito si mette al fondo della vasca cioè fa così oppure qua dal lato per esempio silenziosissima però ragazzi io vi faccio questo memo così state lì perché domani prossimi giorni troverete la descrizione bene vedremo come funge ciao ne fate bravi ci vediamo al prossimo video ciao ciao